Tornano i camp magnetici e aspettano i bambini e le bambine con laboratori creativi di ogni genere. Dal 27 al 29 dicembre 2023 Magnete e Associazione Fedora organizzano Onde Sonore, un camp invernale dedicato a bambini sordi e udenti dai 6 agli 11 anni che sperimenteranno la creazione di un podcast condiviso e accessibile. I camp magnetici sono attivi nei giorni di chiusura scolastica per offrire un servizio alle famiglie della zona nord-est di Milano, ma non solo. Si tratta di camp tematici in cui si gioca e riflette su temi come l'ambiente, la tecnologia e l'arte, con la guida di formatori esperti che operano nell'ambito scolastico e culturale. Durante le tre giornate di Onde Sonore, bambini e bambine avranno l'opportunità di sperimentare, condividere e apprendere come creare contenuti per un podcast, rendendoli accessibili anche a persone sorde. Il camp sarà accessibile tramite la presenza di due interpreti LIS e della sopratitolazione indiretta, così come grazie all'intermediazione di un educatore e di un'educatrice. Il camp si svolge a Magnete, in via Adriano 107, a Milano. Per tutte le informazioni su costi, orari e modalità di svolgimento, puoi visitare il link che trovi nel testo che accompagna questo video. Se vuoi contattarci, puoi scrivere a campomagnetico-magnete.me.it oppure a ass.ne.fedora-gmail.com Ti aspettiamo!